Questo è il lago, siamo fra le albi e si vede la terra asperica perfettamente, perfettamente, dopo centinaia di mali è la prima volta che ci confrontiamo per vedere la spericità della terra, 8-9 mila metri, peccato sono sparite le scienche, noi siamo a 9 mila metri e loro sono almeno 20 mila sopra di noi, per cui si capisce che io sono a bassa quota, eccoci qua, l'importante è che si veda che la terra è sferita, tutto. Splendito, adesso vediamo. Abbiamo le Alpi, tutto sotto verso giù, nevita. Vittorio. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie.